Musica Ancora una giornata di super lavoro per i vigili del fuoco del territorio brindisino. Questa volta le fiamme hanno divorato diversi ettari di macchia mediterranea e pini allo svincolo della 379 per Ostunitore, Pozzelle e Valtur. Le fiamme alte, la macchia mediterranea che tornava al sistema di rampe è stata completamente incenerita. Le fiamme poi sono propagate velocemente, spinte dal vento anche alla vicinissima pineta del villaggio Valtur. Sul posto è intervenuta la polizia urbana e le pattuglie della guardia di finanza della compagnia di Ostuni. Le fiamme poi hanno rapidamente percorso anche la distesa di sterpaglie verso il costruendo albergo della catena Nico Tell che si trova accanto alla strada per l'amaforca e che si raggiunge dallo stesso svincolo. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare diverse ore prima di avere ragione delle fiamme. Grazie.